Assessore Sorgia, riparte la settimana santa a Cagliaritana, perché è turisticamente importante? Ma è turisticamente importante perché ovviamente noi puntiamo molto su un turismo integrato a 360 gradi, in questo caso un turismo culturale, un turismo religioso, che fa parte appunto di quelle peculiarità, delle iniziative che noi vogliamo portare avanti per promuovere al meglio la città. Ci sono state delle lamentele per i tavolini, cosa vogliamo rispondere alle attività produttive che si sono lamentate? Ma intanto è un'iniziativa di tipo politico, è un'iniziativa di tipo amministrativo, è una determinata parte del dirigente, è nata chiaramente da una richiesta esplicita che ha fatto la circonfraternita e la Polizia Municipale ha ricevuto la richiesta, però voglio sgomberare subito ogni dubbio, io ieri ho promuovuto subito un incontro con il presidente della Fipe Commercio, Manuel Le Frongia e il comandante Calzia che come sempre si è reso disponibile e abbiamo sciolto ogni dubbio, ossia non ci sarà nessun problema per i tavolini della piazza Iene, ma sicuramente una propria decisione che passerà non sulla piazza, ma sulla strada e quindi il problema è stato risolto facilmente.